Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio, Padre Onipotente, Creatore del Cielo e della Terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso, contempliamo la risurrezione di Gesù dai morti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi e rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Voi siete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ora siete nella tristezza, ma il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Di buon mattino si recarono alla tomba, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra, e si pose a sedere su di essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'angelo disse alle donne, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. È risorto, come aveva detto, venite a vedere il luogo dove era deposto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Presto, andate a dire ai Suoi discepoli, è risorto dai morti, e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io sono la risurrezione e la vita, e crede in me, anche se muore, vivrà. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e del Santo Rosario, prega per noi, per il mondo intero e per le nostre famiglie. Nel secondo mistero glorioso, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gesù li condusse fuori, verso Betania, e alzati le mani, li benedisse. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Disse loro, mi è stato dato ogni potere, in cielo e in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Andate dunque, e ammaestrate tutte le nazioni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. battezzandole nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvo, ma chi non crederà, sarà condannato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi, e una nube lo sottrasse al loro sguardo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo, assiso alla destra di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e del Santo Rosario, prega per noi, per il mondo intero e per le nostre famiglie. Nel terzo mistero glorioso, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Erano assidui e concordi nella preghiera con Maria, Madre di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte Gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E apparvero loro lingue come di fuoco, che si posarono su ciascuno di loro. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Si trovavano allora in Gerusalemme, giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri undici, parlò ad alta voce. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare. Dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Coloro che accolsero la sua parola, furono battezzati, e quel giorno si unirono a loro circa 3.000 persone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi, e che avete da Dio, e che non appartenete a voi stessi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e del Santo Rosario, prega per noi, per il mondo intero, e per le nostre famiglie. Nel quarto mistero glorioso, contempliamo l'assunzione di Maria Santissima in cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi, e rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ha preso possesso del suo regno, il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Rallegriamoci ed esultiamo, perché sono giunte le nozze dell'agnello. La sua sposa è pronta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tergerà ogni lacrima, dai loro occhi, e non ci sarà più la morte. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi mostrerò la città santa, Gerusalemme, risplendente della gloria di Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Le nazioni cammineranno alla sua luce, porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Si apre il santuario di Dio nel cielo, e apparve nel santuario, l'arca dell'alleanza. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benedetta sei tu davanti al Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu magnifico vanto di Israele, tu splendido onore della nostra gente. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e del Santo Rosario, prega per noi, per il mondo intero, e per le nostre famiglie. Nel quinto mistero glorioso, contempliamo l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del cielo e della terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La luna sotto i suoi piedi, e sul capo, una corona di dodici stelle. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Udi una gran voce dal cielo, che diceva, ora si è compiuta la salvezza, e il regno del nostro Dio, e la potenza del suo Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ora figli, ascoltatemi, beati quelli che seguono le mie vie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Beato l'uomo che mi ascolta, vegliando ogni giorno alla mia porta. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Chi trova me, trova la vita, e ottiene favori dal Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io amo coloro che mi amano, e quelli che mi cercano, mi trovano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome di Gesù, ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sotto terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E ogni lingua, proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e del Santo Rosario, prega per noi, per il mondo intero, e per le nostre famiglie. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli i figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Litanie lauretane, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del Cielo che sei Dio, abbi pietà di noi, Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi, Spirito santo che sei Dio, abbi pietà di noi, Santa Trinità unico Dio, abbi pietà di noi, Santa Maria prega per noi, Santa Madre di Dio prega per noi, Santa Vergine delle Vergini prega per noi, Madre di Cristo prega per noi, Madre della Chiesa prega per noi, Madre della Divina Grazia prega per noi, Madre Purissima prega per noi, Madre Castissima prega per noi, Madre sempre Vergine prega per noi, Madre Immacolata prega per noi, Madre degna d'amore prega per noi, Madre ammirabile prega per noi, Madre del Buon Consiglio prega per noi, Madre del Creatore prega per noi, Madre del Salvatore prega per noi, Madre di Misericordia prega per noi, Vergine Prudentissima prega per noi, Vergine degna di onore prega per noi, Vergine degna di lode prega per noi, Vergine potente prega per noi, Vergine clemente prega per noi, Vergine fedele prega per noi, Specchio della Santità Divina prega per noi, Sede della Sapienza prega per noi, Causa della Nostra Letizia prega per noi, Tempio dello Spirito Santo prega per noi, Tabernacolo dell'Eterna Gloria prega per noi, Dimora tutta consacrata a Dio prega per noi, Rosa Mistica prega per noi, Torre di Davide prega per noi, Torre d'Avorio prega per noi, Casa d'Oro prega per noi, Arca dell'Alleanza prega per noi, Porta del Cielo prega per noi, Stella del Mattino prega per noi, Salute degli Infermi prega per noi, Rifugio dei Peccatori prega per noi, Consolatrice degli Afflitti prega per noi, Aiuto dei Cristiani prega per noi, Reggina degli Angeli prega per noi, Reggina dei Patriarchi prega per noi, Reggina dei Profeti prega per noi, Reggina degli Apostoli prega per noi, Reggina dei Martiri prega per noi, Reggina dei Veri Cristiani prega per noi, Reggina delle Veri Cristiani prega per noi, Reggina di tutti i Santi prega per noi, Reggina concepita senza peccato originale prega per noi, Reggina assunta in cielo prega per noi, Reggina del Santo Rosario prega per noi, Reggina della Famiglia prega per noi, Reggina della Pace 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 prega per noi, Cristo. Preghiamo, concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie.